Tradurre un sito Shopify in più lingue è diventato facile e economico, addirittura gratis. In passato, sapete, Shopify chiedeva una fee per la traduzione, in realtà si pagava un abbonamento a un'applicazione di traduzione. E questo perché la traduzione in più lingue non era una funzionalità inclusa in Shopify. Oggi invece il nuovo sistema multilingua di Shopify include la possibilità di inserire più lingue, addirittura abbinando ogni lingua a domini differenti. In questo video voglio mostrarvi come si fa a tradurre il negozio in maniera gratuita, semplice e veloce. Iniziamo subito! Bene, come sapete Shopify aveva un sistema di traduzioni che si sfruttava delle applicazioni terze. Molti di voi avranno installato Langify o Weglot o altre applicazioni, multilingua ad esempio, e servivano queste per inserire un codice all'interno del sito, per cui il sito veniva caricato comunque nella vostra lingua normale. Supponiamo che la lingua base fosse l'italiano, quindi il sito veniva caricato in italiano. Poi se è selezionato inglese, l'applicazione metteva con un codice i testi nella lingua sostituendo al momento quelli italiani con quelli inglesi. Questo sistema oggi è superato perché Shopify ha inserito una nuova funzionalità per cui la scheda prodotto, i dati del prodotto possono contenere più lingue, proprio all'interno della memoria di Shopify. In questo modo, quando la pagina viene creata, quando una persona va a visitare la pagina del vostro sito, di un vostro prodotto, vengono mandati immediatamente i testi in inglese. Quindi non è più necessario perdere tempo per lo spostamento dei testi dall'italiano all'inglese, che è come avveniva prima, e questa perdita di tempo che possiamo evitare comporta anche un miglioramento in chiave SEO, perché, come sapete, Google premia i siti che caricano rapidamente, quindi quel mezzo secondo, un terzo di secondo di rallentamento provocato da questa operazione veniva comunque penalizzato. Ebbene, oggi questo non succede più. E come si fa quindi a tradurre il nostro sito? Vediamo subito un sito che è stato tradotto col nuovo sistema. Allora, questo qui è il sito di un mio cliente, si chiama Masseria Casaburo. È un sito molto semplice, loro vendono del meraviglioso olio extravergine biologico da olivi secolari. Vedete che questa è una pagina che è completamente in italiano. Il sito è .it e non c'è altro, ok? Quindi questo è shop.messeriacasaburo.it senza niente aggiunto. Si è caricata la home page, il tema è il debut, e vedete che i testi sono italiani, ok? Se andiamo in un prodotto, ad esempio tutti i prodotti, è tutto in italiano. Se andiamo in una categoria, una collezione, tutto il titolo della collezione e tutti i testi del sito, diciamo, e la scheda prodotto è in italiano. Andiamo ad esempio in questo prodotto. Ecco qua, vedete, testi in italiano, tutti questi testi sono in italiano, quindi la variante, quindi il titolo della variante e il nome della variante sono in italiano, ok? E anche tutto il resto. Va bene. Lo stesso vale, dicasi, per i testi standard del sito, ma questi li traducevamo già, quindi se andiamo nei testi del tema, perché questi qui sono testi del tema, ok? Questi erano già facili da tradurre anche prima, ok? Però quello che importa è il dato di prodotto e le pagine, ok? Vediamo anche la pagina a chi siamo per dire, ecco qua, testi in italiano. Benissimo. Allora, adesso scendiamo nel sito, mettiamo English, ok? Bene, qui non è stato speso niente, non è attiva nessuna app particolare che crea dei costi, solo elementi gratuiti, tutti questi dati sono dentro Shopify. Bene, allora, ritorniamo alla home page, ok? Questo testo della slider, quindi del configuratore della home page, è stato tradotto. I testi della home page sono tradotti, tutti quanti. Questi sono i testi dei nomi delle collezioni, che vengono automaticamente riportati qui tradotti. Se andiamo nel tutti i prodotti, vediamo i prodotti con il nome in inglese, ok? Il olio bio è diventato organic extra virgin olive oil, ok? E se andiamo nella categoria, come prima, ecco qua i testi del nostro, cioè tutte le nostre cose, rientriamo nello stesso articolo, nello stesso prodotto in vendita, ok? Abbiamo il titolo in inglese, questo text included è una traduzione del tema, ok? Quindi questa l'avremmo avuta comunque. Ecco, qui abbiamo il nome della variante tradotto e il titolo, cioè la variante e il titolo della variante tradotto, guarda, e tutto il testo tradotto, ok? Questo qui è, guarda, questo ce lo saremmo dimenticato, comunque si può tradurre anche lui in nessun problema. E basta, anche tutto il footer, quick links, eccetera, eccetera, sono tradotti. Adesso andiamo alla pagina, about us è diventato, about us, testi tradotti, ok? Quindi questo sito è passato, ovviamente i testi del tema sono tradotti, login, forgot your password, create account, eccetera. Quindi questo sito è diventato in inglese, vedete, barra en, senza spendere niente, perché adesso è in attivo Shopify. Allora, adesso vedremo come realizzare un sistema del genere, quali sono i metodi semplici per farlo gratuitamente sul nostro negozio di test. Ecco, siamo al nostro negozio di test, organic home, che usiamo per i corsi di strategia e-commerce. Allora, andiamo nella parte delle impostazioni, quindi area impostazioni, lingue del negozio. Eccoci entrati, vediamo che la lingua predefinita è l'italiano di questo negozio e le lingue pubblicate sono l'inglese, era già stato inserito. Nel caso è banale, basta fare aggiungilingua e si mette una lingua in più. Però attenzione, dice nessuna app di traduzione è installata. Allora, cosa succede nel sito in questo momento? E' stato aggiunto l'inglese, ok? Ora vedete, il sito è in italiano, però se io volessi passarlo in inglese, qui siamo allogati come amministratori, quindi possiamo premere qua e vederlo in inglese, che cosa succede? I testi sono sempre gli stessi, non è cambiato niente, ok? I prodotti sono sempre gli stessi, eccolo qua, paletta da giardinieri in effetto di metallo, quindi qui nulla è diventato in inglese, però i testi sì, perché il tema, il tema che stiamo usando aveva anche i testi in inglese, quindi filter by, sort by, e se vado nel login, vedete, forgot your password, create account, però il resto è tutto in italiano. Perché qui, chiaramente, lui vorrebbe essere in inglese, ma non ha niente dentro di tradotto, quindi mostra solo quello che ha, cioè i testi del tema. Ok, torniamo alla home page e ritorniamo nell'area amministrativa. A questo punto noi premeremo visita app store di Shopify, per andare a installare un'applicazione, ok? Scegliamo l'account, con cui entriamo nell'app store, adesso continuo a chiedermi questa cosa, bene. E finalmente vediamo le dieci applicazioni che lui mi propone per la traduzione. Allora, filtriamo, mettiamo subito quelle gratuite, free. Ok, allora, quelle che ho provato già, con cui mi sono trovato bene, devo dire, sono questo qui, TMS, Translate My Store, che è completamente gratuite, e anche Translation Lab di questo Sherpas Design. Quindi, entrambe sono uguali, concettualmente, cominciamo a mettere Translate My Store, così vediamo la prima. Add app. Bene, mi chiede i permessi per la gestione di quanto necessario. Installiamo l'applicazione. Ed ecco che l'applicazione si è aperta. Ora, cosa sta facendo l'applicazione? Scanning Translatable Items. Sta facendo lo scan, cioè la verifica, l'analisi, di cosa possiamo tradurre nel nostro negozio. Perché ci mette del tempo? Perché sta lavorando? Per andare a scaricare da Shopify eventuali traduzioni che ci sono o non ci sono. Questo perché la memoria ormai è dentro Shopify. Bene, è passato qualche minuto e ora possiamo tradurre il nostro negozio. La traduzione manuale in queste applicazioni è sempre gratuita. Se volete invece la traduzione con intelligenza artificiale automatica, a quel punto si paga qualcosa. Però ora non ci interessa. Manual Translation. Ecco, si apre questo pannello. Qui stiamo in Translate My Store, TMS, sull'icona. Possiamo dire, ok, voglio tradurre il mio negozio in inglese. Che cosa volete tradurre? Qua ci sono tutte le risorse. Collection sono i nomi delle categorie. Quindi cominciamo ad esempio da quelli. Mostrami solo quelle non tradotte. Poi premiamo questo bottone. Eccole qua. Homepage possiamo lasciarla uguale. Ok, piante. Plants. E poi faccio Salve. Ok, mobili. Furniture. Qui sostanzialmente bisogna tradurlo. Cioè l'operazione di traduzione. Ok, viene fatta. E adesso ve la risparmio e vado avanti da solo. Ok, io ho tradotto le collezioni. Adesso passiamo, giusto per tagliare corto, a farvi vedere cosa succede, a tradurre i prodotti. Ok, ora vediamo che ho tradotto questo prodotto titolo, ok, e body HTML. Quindi questo è il body. Lo possiamo anche vedere con l'editor. Chiaramente mettiamo qua, possiamo mettere un corsivo per esempio. Quindi si può anche usare l'editor. Ok, per questo l'altra applicazione che vediamo dopo è un pochino più semplice da usare. Ok, siamo tornati nel nostro negozio online. Ho fatto un po' di traduzioni dal pannello che avete visto. E vediamo subito che la home page nella versione inglese, vedete qui EN, nella versione inglese ha alcuni testi che ho appunto tradotto. Chi siamo non l'avrà ancora preso. Qua c'è un messaggio in alto che è stato tradotto. Vedete, se tolgo EN, torniamo alla versione base. Ecco, c'è un messaggio in italiano. Prodotti per la casa, speciale per te. Quindi adesso ritorniamo all'inglese. EN. Eccolo qua. Products for your home, special for you. Questo è rimasto. Poi questi qui non li ho ancora tradotti. Quindi in realtà bisogna tradurli. Questi sono gli item di menu. Ok, poi qua vedete, ho tradotto questi testi. E tutto ora è dentro Shopify tradotto. Ok. Bene, andiamo a vedere il prodotto. Piante. Il mio prodotto di riferimento è sempre questo qua. L'oe vera bianchina. Eccolo. Allora, qua non è stato cambiato questa dimensione del vaso. Si può tradurre, ma non l'ho ancora fatto. Però vedete, il testo è tradotto. Quindi se noi switchiamo adesso sull'italiano. Ok. Qua a posto di EN ci mettiamo IT o niente. Oppure comodamente, siccome siamo loggati, facciamo così. Italiano. Tac. Vedete che è tornato in italiano. Quindi abbiamo efficacemente tradotto il prodotto in inglese. Quando faremo il checkout in inglese, questa è la cosa importante. Vedete, guarda. Buy it now. Carrello ovviamente. Ma andiamo direttamente in checkout per fare prima. Succederà questo, che è importante perché in passato, eccolo vedete, qua è stato caricato il prodotto col titolo inglese, col titolo tradotto. Lo so perché ho messo queste virgolette solo nella versione inglese, per distinguerle, visto che qui il nome è simile. Ok. Però il bello è che adesso, finalmente, sull'ordine inglese ci sarà il nome del prodotto inglese. Invece prima succedeva sempre che poi arrivati qui, tac, recuperasse il nome del prodotto in italiano, anche se tutta l'esperienza prima era in inglese. Quindi questo è un elemento molto importante, per cui questo sistema di traduzione nativo è realmente efficace. Ok. Andiamo a vedere l'altra app che vi ho promesso. Bene, è questa qua, Translation Lab, l'altra che ho provato. La installiamo subito. Ecco, ci ha aperto il pannello. Qui non è che ci sia da fare molto, perché in realtà è già pubblicato e configurato l'inglese nel nostro store. Però andiamo su Translations. Ok. Vediamo traduzioni per inglese. Traduzioni di prodotto. Vedete, qua posso anche cercare il prodotto, cosa che di là non posso, dovrei pagare per cercare il prodotto. Eccolo qua. Allora, attenzione, questo è importante. L'aloe vera bianchina. Ok. Vedete che il titolo ha la traduzione, che nel mio caso ho messo le virgolette per distinguerle. Però guardate, questa aloe vera si chiama This aloe vera is called. Ok. È già tradotto, perché lui è un'altra applicazione, ma ha letto le modifiche che ho fatto nell'applicazione precedente. Perché? Perché l'applicazione precedente, che ha mandato le modifiche dentro Shopify, anche questa vede dentro Shopify e lo trova già tradotto. Quindi qui stiamo lavorando tutti sugli stessi dati. Questo è bello. Posso usare tutte le applicazioni che voglio per fare lo stesso lavoro. Ok. Poi qua, se clicco Editing Rich Text Editor, vedete, è più pratico, perché qui posso anche avere l'editor. Cioè, vedo l'editor di qua e posso fare delle cose anche di qua. Un elenco puntato, uno spazio, in maniera più semplice. Sì, tra i due, forse questo è più pratico. Ok. Supponiamo qua di fare una modifica. Vogliamo mettere questo in grassetto. Facciamo Accept and Close. E poi Save. E facciamo il salvataggio di tutte le modifiche della pagina. Allora, questa è una panoramica che ho voluto farvi, perché sono molto contento di questa nuova funzionalità. Shopify, fino a poco tempo fa, aveva questo problema per il merchant italiano, di dire come, voglio aggiungere altre lingue, devo pagarti qualcosa in più, 20 dollari in più al mese, più o meno. Invece adesso no, posso tradurre tutto gratuitamente in maniera semplice, efficace, con app di traduzione come queste, oppure addirittura collegandomi con le API amministrative, quindi per i progetti più grossi, quando c'è un'applicazione che gestisce il catalogo esterna, questa può direttamente gestire le traduzioni anche dentro Shopify. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di fare like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao!